I dipendenti di quella che ormai lo definiamo ex ASA sono tornati alla ribalta perché lamentano di essere stati abbandonati dai sindacati, liste di attesa che vengono disattese, ci sono problemi legati ai lavoratori diversamente abili, lettere di licenziamento senza nessun controllo, è così? Ma no, credo che questo sia più che altro un'ulteriore richiesta di aiuto da parte dei lavoratori, quelli che sono rimasti fuori, quindi è brutto chiamarli ex lavoratori ma tali sono perché in questa settimana, anzi nella passata è successo un fatto spiacevole, nel senso che il sindacato è stato investito di quella grossa e triste responsabilità quando è stato il momento di fare i passaggi dei lavoratori, di mettere in piedi delle graduatorie con dei criteri che fossero il più possibile oggettivi per decidere chi avrebbe avuto un posto di lavoro e chi sarebbe rimasto fuori e da questo passaggio la politica del territorio si è ben guardata dell'occuparsene, se n'è stata fuori perché quando c'era da decretare la perdita di lavoro nei confronti di alcuni lavoratori evidentemente non era un argomento che riteneva essere caro. Adesso che pare ci sia la possibilità di qualche assunzione per quanto riguarda quello che in gergo tecnico si chiama il controllo analogo, cioè il controllo che il pubblico deve fare nei confronti delle aziende che svolgono un servizio di pubblica utilità come nel caso della Tecno Service e che quindi c'è bisogno di assumere qualche persona, è comparsa una lettera firma di un politico del territorio che ha firmato credo a nome di altri sindaci i quali chiedono l'assunzione nominativa di due persone per andare a ricoprire quell'incarico lì. E quindi sono rispuntati ancora una volta i politici nella loro veste migliore, cioè che quando c'è da far fare qualche assunzione loro si fanno vivi, quando c'è da decidere chi è che sarà a perdere il posto di lavoro sono ben contenti di lasciare la patata bollente al sindacato, anche perché così poi le eventuali colpe possono ricadere su chi era seduto ai tavoli. Quando c'è invece da coprirsi di gloria e di far fare delle assunzioni gli piace anche scegliere nome e cognome. Io credo che questo non sia giusto, nel senso che siccome l'accordo di passaggio dei lavoratori prevedeva che anche per le future eventuali assunzioni che si fossero dovute fare, anche in profili professionali diversi da quelli previsti dal bando, comunque il canale di accesso non poteva essere altro se non quello del tavolo della Commissione a suo tempo istituita che si basa su queste graduatorie, che poi sono state fatte con dei criteri il più possibile oggettivi, poi la verità in mano non pretendo di averla, credo che non le abbia nessuno, noi abbiamo cercato di fare delle graduatorie che fossero pubbliche innanzitutto, oggettive, con dei criteri chiari, il più possibile semplici, chiaramente ha lasciato fuori qualcuno, quindi non mi aspetto che chi è rimasto fuori sia contento dell'applicazione di quelle graduatorie, sarei un folle, però perlomeno sono criteri oggettivi. Così facendo ritorniamo alle assunzioni, non voglio dire clientelari, che è un termine che non mi piace, però ad personam, e credo che di danni politici per quanto riguarda ASA, poi non hanno tutti lo stesso grado di responsabilità per carità, però alcuni politici nei confronti di ASA hanno fatto dei danni che li abbiamo pagati e li stiamo pagando ancora adesso, le stanno proprio pagando quelle persone che sono rimaste fuori più di tutti gli altri, poi forse un giorno li dovranno pagare anche i cittadini quando si tratterà di risarcire gli 80 milioni di Euro di debiti che ASA ha fatto. Io credo che oggi si debba dire basta a queste speculazioni, perché veramente le 92 persone che sono fuori e che giustamente si aspettano delle risposte anche ai termini occupazionali, credo che non possano tollerare uno scempio del genere e il sindacato ritengo abbia il compito. Noi venerdì abbiamo un incontro con l'azienda in cui chiederemo e intimeremo immediatamente il blocco di queste assunzioni perché riteniamo che non sia giusto questo modo di agire, non sia corretto, gli accordi firmati sono diversi e il sindacato deve essere garante di tutti, di quelli che sono riusciti a entrare per effetto dell'applicazione delle graduatorie ma anche di quelli che sono fuori e ai quali speriamo, immagino non a tutti, ma a una buona parte magari nel tempo anche di riuscire a dare un'opportunità di lavoro all'interno di Tecnoservice, questo sicuramente sì. Il rapporto con Tecnoservice è uno, ma c'è anche il rapporto con la procedura, perché molti di questi lavoratori comunque avanzano dei soldi, alcuni anche parecchi da parte della procedura. Sì, anche lì, come dire, molto a rilento per responsabilità che non credo siano da scrivere al sindacato, noi alla procedura li stiamo dietro dal 14 ottobre che è la data in cui sono stati licenziati i lavoratori, però siamo riusciti a fare un incontro questa settimana, ne seguirà un altro specifico la settimana prossima, il Trent esattamente mi sembra di ricordare, in cui stiamo trovando una formula che sarà quella di una sorta di accordo individuale, il cui però testo sarà condiviso ovviamente dalle organizzazioni sindacali attraverso il quale l'azienda si impegna a riconoscere, si è fatta un'ipotesi che immagino resterà quella in tre rate trimestrali, quindi nell'arco di 12 mesi, tutte le aspettanze arretrate per quanto riguarda il pezzo del TFR maturato dalla gestione commissariale in avanti, i rate di 13esima, 14esima e una sorta di indennizzo per il mancato preavviso per coloro che non sono stati ricollocati in tecno service e che quindi si sono visti licenziati dall'oggi al domani e che dovrebbe essere più o meno equiparabile a due o tre mensilità a seconda dell'anzianità di servizio che si era maturata. E quindi anche lì se riuscissimo già nei primissimi giorni di febbraio a firmare proprio concretamente gli accordi individuali, io immagino che entro la prima, massimo seconda settimana di febbraio questi lavoratori che sono in grande difficoltà perché ricordo che percepiscono soltanto l'indenità di disoccupazione che peraltro è una durata molto breve e alla fine di quella non è previsto nessun'altra forma di sostegno al reddito di amortizzatore sociale però che perlomeno possono avere una boccata d'ossigeno su soldi che gli spettano e che sono loro e che a questo punto possono fare anche la differenza tra la sopravvivenza o la disperazione, quindi è un fatto sicuramente importante sul quale perlomeno nessuno ha intenzione di dormire e non si deve dormire, questo sicuramente sì.